il fazzone non per nulla è in chat sarà ma non mi deve portare sfiga a me il fazzone cioè agli altri cazzo bisogna sostenersi fare una coalizione salviamo che ogni tanto qua crash non sa mai usiamo il rappel e via non ho cure io spammo amber qui se uno resiste chapeau a voi l'ho preso rod tanto posso tornare indietro a prenderlo importante che non mi curo in casa si si l'ho preso sto sfatto sto bebiato dai dammi slow bro trovare slow bro buono adesso scautiamo allora riditemi un attimo i pokemon che si trova non sono due due o tre selvatici qua che non mi ricordo solana c'è anche il marketplace però a mezzo vabbè tiro amber bro c'è il cazzo è il cazzo quello sei tu mortine latte latte ne ha ben di più di 300k probabilmente il triplo però magari il cazzo io ne avrò un cinquecentesimo neanche di quelli faccio amber boh c'è sto merda ragazzi questo è un problema faccio amber di nuovo c'è tecnicamente poco attacco lui se mi ha fatto quel danno lì no esatto cioè se uno resiste a amber a 10 livelli in meno vuol dire che ha poco attacco perché ha le stazze in special defense no tecnicamente quantomeno si ho presente chi è conosco no ma ho presente chi è vabbè ma tutte quelle lì sono sponsorizzazioni di crypto scam ovviamente cioè tutta la roba che fa la gente su telegram la roba che fa tutte queste cose qui sono robe giga scam ovviamente ma non ci vuole marconi capirlo sorare cosa ne pensi sorare carino io una volta avevo anche il mio affiliate link un po l'ho fatto ma lo feci un anno e mezzo con altri due soci c'ho due soci due miei mod che sono messi lì loro giocano tuttora e avevano fatto tipo un 1.5 perto però il discorso di sorare che ci devi star troppo dietro devi far la formazione ogni weekend eccetera tipo il fanta no il fanta lo faccio con due miei mod cioè ogni fanta sia quello con nanni mario e compagnia bella lo faccio con due mod sia quello della community e gestiscono loro cioè a me piace far l'asta star lì poi magari c'è un giorno dove voglio tryhardarci 10 ore ma poi per due settimane non ne voglio sentire parlare quindi tipo il fanta io la formazione non l'ho mai fatta perché mi rompo il cazzo diventa più un impegno che altro per me poi c'è chi se lo vive però mi diverto a sfottere gli altri e a venire sfottuto anche perché alla fine fa parte del gioco quello è un po tipo il clima della pilla no cioè si scherza c'è il fazzone qua la mattina io vado dal fazzone al pomeriggio alla sera volevo dire stessa cosa con polio altri ci si sfotte un po' secondo me quello è il bello del fanta calcio poi beh loli si si sono stati in centro pavia il giorno del mio complano il tempo un po' così però mi sono divertito sabato si si te come hai passato il weekend avrebbe fatto la fatica delle mosse fuoco questo pazzesco però sarebbe già morto perché non avrei avuto coverage certi pokemon fa merda no blades kick fa merda ma i selvatici li abbiamo già visti tutti devo pescare però no non mi ricordo se ho già visto entrambi i pokemon nell'acqua pescando dov'è che avrei lasciato indietro il trainer scusatemi ma li ho fatti i trainer tutti questo qua anche si si già li ho fatti qua c'era grumble poi qua ce ne dovrebbero essere tre no o due o tre grumble cascun e un altro che però mi pare di aver già visto no tre negli ho fatti quindi chi ha detto e lucario c'era il nostalgico che per l'amor di dio dai fammi far sto slobro fra come on ah io forse farei fire blast di lui perché uno è al 20 don't believe me just watch nincada si becca amber direi anche perché oh c'è zio pera se non muore nincada oh mamma questo non di nuovo tu eh merda fra faccio special rendo powder snow powder secondo me non killa mai qua eh secondo me non killa powder qua una 40 power bro qua devo fare special per non avere rischio oh 95 raga secondo me devo fare special perché se non kille lui mi fa una fisica son morto più che altro ok adesso resisteva immagina mi killava cioè non è pazzesco spazzle no 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 gar c'ho un po' 4 per via amber oh cazzo bro nido era nel 17 zio pera let's not joke about that qua una volta avevo un pokemon con 80 di speedo per scatto un tiranniter che era più veloce di me unbelievable ho rischiato di perderci la run cioè incredibile pazzo è crazy no no anche dai selvatici fare soci vale anche dai selvatici soci dai però pescalo che cazzo qua sono due pokemon nell'acqua e tre selvatici se non erro si c'è solo il bonus per tutto uguale il bonus e non c'è il malus hanno tutti lo stesso bonus senza malus stai weak ma ora che si parlava di cripto mi avete ricordato quando era crashata l'una zio pera avete presente quando crashò l'una la che era la stable coin su dollaro mamma mia c'è quanta gente si è suicidata lì io mi ricordo su twitter ma c'era un sacco di gente che si è suicidata lì quando crashò l'una che quando droppò l'una mamma mia che roba io fortuna non ci ho messo nulla sulle stable coin ma dice tanta di quella gente che si è ammazzata letteralmente che ha perso tutto stable coin tra virgolette use this l'una non era stable coin secondo me l'una era stable coin ai tempi l'una era una stable coin che su binance aveva lo staking con il rendimento tipo bo del 10% o altro storicamente era considerata una delle più l'una classica era stable coin l'una normale no io parlo della luna che è crashata poi ora appunto ripreso da due settimane ora però più nft che crypto insomma però era da dire che prima o poi io nelle stable coin e ste robe qui non ci ho mai messo un cazzo perché use this stable coin quella si però non era anche l'una ai tempi molti avevano più gente l'una perché avevano staking su binance secondo me che oltretutto si è preso la multa da 4,3 miliardi un paio di giorni fa si si burnavano io mi ricordo insomma adesso che si parlava prima di crypto mi avete fatto ritornare in mente mamma mia lì quanta gente che si è ammazzata bro che ha perso tutto guarda che c'era un sacco di gente in america che aveva tutto lì bro girava lo stipendio i staking su luna su binance cioè ma era pieno bro mamma mia cioè che situazione bro faccio fire blast comunque zero cure è assurdo sì zero cure sta run letteralmente la pozza di inizio gioco è buona vediamo se passi alla pala è tosta non so se far powder snow qua secondo me far spazio arrendo faccio powder sta al 14 però boh crit secondo me senza crit non lo tiravo giù guarda che sta al 14 ma non vuol dire qua potrei fare ember oppure vado di fire blast spero fire blast mi servirebbe per il capopale potrei tirare uno spazio arrendo anche qui in realtà una 100 power dai ember faccio ember anche lui al 17 bro o faccio una spazio al qua spazio al 100 power non può missare cioè non può missare può missare ma solo al 5 spazio ammi garbani ma non vuol dire johnny possono benissimo resistere se gli fai una il toyani tipo si becca un powder non chill ok rotom mamma mia tu mi hai stancato bro basta rotom la mt della union era una smella in salta ragazzi c'era scritto di ok bring in la 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 merda ti giuro che rotom è un incubo fra fra mamma mia buono missarlo qua meglio qua che dopo eh judgment è enable da imparare ce l'ha data bro come enable qua stanno al 18 basta bro merda ti giuro che ti odio non ne posso più cioè basta faccio ember su rotom powder fa dare ma fa dare cosa diventa un 220 o una 40 su entrambi che non mi ricordo è una 40 su entrambi o 220 è una merda raga meglio fare ember su rotom allora fa merda allora fa merda adesso mi fa zampillo caterpy di merda pelli per imparare il glow no è embarrassing sta roba cioè è embarrassing non mi ha neanche steccato il piccione vabbè è embarrassing sorvoliamo wait on me wait on me wait on me wait on me if he was there on me potevo dargli la bacca delle mosse rocce da tenere anche forse scusa counter mamma mia che roba ma lui ha cure non mi ricordo questo qua si cura o no merda ma come che difesa speciale c'ha è disumana non ha ha usato la bacca che aveva che palle sta roba ragazzi mamma mia assurdo devo tenere una special secondo me basta ah l'ho steccato poco fa Rotom che era però l'ho crittato no no cura cura cioè quanti ne ho beccati più che altro era quello a bst più alto questo è al 20 qua gli tiro una embera questo non è neanche devo fare special mi sa 34 godo allora fire blast ember ember should be good enough no dai non può missare meglio ma questo scoppia raga prima o poi qua devo fare fire ci sono i pokemon a livello alto roar of time ahia oh ragazzi faccio fire blast again qua si è messo a parte che lui ricarica quindi lui ricarica rischia di resistere a una a una merda di ember o di azzurri non dovrebbe però su azzurri gli caccio un ember tattica matura se è messo ci abbracciamo e via il punto è che c'è forse devo fare special su ditto ember ha una 60 power ditto al 30 potrebbe anche resistere dopo rischio la mirror coat quindi arrivare post bug si è fatto no 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 parigi proprio come città mi dà una vibe bro che non lo so perché parigi è troppo una vibe disumana non so perché sheer cold dai anticipi renei ma è possibile che non impari una mossa porco dio cioè qua già la carta l'ho fatta quindi inutile non so cioè non è che uno deve stare a vedere necessariamente la storia questo quello quell'altro sono le vibe che ti dà andare in un certo posto cioè non non è che ci deve essere per forza una spiegazione razionale per quanto mi riguarda per dire anche barcelona mi ha fatto cagare in cazzo ne so a lisbona ci tornerai domani per dire non è che necessariamente se una città ha più storia di un'altra allora deve necessariamente darti più vibe cioè quanto meno secondo me poi io ma vai a cagare a Napoli mi piacerebbe andarci tipo a Napoli non ci sono mai stato mi piacerebbe molto andarci ma perché devi dire che è schifo che probabilmente non ci sei neanche mai stato che ne sai ogni città ha il suo fascino poi magari c'è una che ti piace di più o qualcuna di meno a me Londra zero proprio sarà che magari ci torni ora a distanza di Annet e ti gara mai dire mai nel senso ember o fireblast secondo me è fire qua doggiata ciao